Ora, di fronte a voi, vengo portato dopo una storia molto lunga di processi, dove mi hanno descritto come un assassino freddo e spietato. Io ovviamente non sono niente di tutto questo. Non ha voluto concedere dichiarazioni al suo arrivo, lasciando che le sue parole fossero rivolte direttamente ai giudici della Corte di Appello di Firenze, dove è in atto l'appello bis del processo per l'omicidio di Meredith Kercher. Raffaele, sollecito, si è seduto sul banco degli imputati, puntando alla sua situazione di personale disagio e ripercorrendo brevemente la sua storia d'amore con Amanda Knox, co-imputata per l'omicidio della studentessa inglese, assieme a Rudy Guede, il terzo indagato, che è stato condannato in via definitiva a 16 anni. Intorno a una piccola folla di giornalisti, l'udienza infatti è stata particolarmente importante per le notizie trapelate dell'isolamento di una traccia di DNA dell'americana, secondo quanto emerso dalla perizia dei carabinieri del RIS, sul coltello che l'accusa ritiene essere quello usato per il delitto e per la presenza del pugliese in aula, rientrato appositamente da Santo Domingo. Volevamo essere completamente isolati nel nostro nido di desideri e di questa piccola favola. Purtroppo nella mia posizione ricevo commenti di ogni genere e mi devo difendere nei media, parlando di quello che faccio, pubblicamente, anche dalla minima e più banale cosa, come se la mia vita e i miei interessi devono essere giudizio di tutti. Meredith Kercher venne uccisa la sera del 1 novembre di 7 anni fa, nella sua abitazione di via della Pergola a Perugia. Gli esperti dell'arma hanno analizzato una traccia, la I, che i consulenti della Corte d'Assise d'Appello avevano precedentemente evidenziato, ma non analizzato. Una traccia con un'esigua quantità di materiale da cui i militari hanno individuato un DNA attribuibile ad Amanda, che si trova tra l'impugnatura e la lama, che per i difensori è invece compatibile con l'utilizzo domestico dell'utensile, visto che la ragazza e Raffaele, all'epoca fidanzati, di fatto vivevano insieme. Sempre sul coltello, sulla lama, per l'esattezza, c'è una traccia che la polizia scientifica aveva attribuito a Meredith Kercher, ritrovamento che per l'accusa confermerebbe come il coltello sia l'arma del delitto. Fu proprio l'esiguità del materiale biologico a far giudicare, non attendibile, la traccia ai consulenti del primo processo d'appello. La sentenza sarebbe prevista per il 10 gennaio 2014. A conclusione, così ha commentato l'avvocato della famiglia Kercher, Francesco Maresca, siamo abituati alle dichiarazioni di sollecito, ne prendiamo atto.